... Una mossa, eh! Una mossa! Muoviti, Ernesto! Dai, a fare! E non inizia la mossa! Ci senti? Si accompagni io, Ernesto! Non ti dispiace! Ti metto la merba! Nooo! E tra poco cominceremo questa festa in cui tutti i figli si esibiranno in balletti, tornei e giochi vari. Daranno un piccolo saggio di quello che hanno fatto durante questo mese. Naturalmente in un'ora non si poteva fare tutto quello che è stato fatto. È stato fatto di tutto, da attività sportive, attività ricreative, giochi popolari, sfilate, tanti di tutto. Penso che voi sappiate che ho occupato per una unione molto importante per Martignano verrà sicuramente più tardi. Io non posso che ringraziare tutti quanti per la collaborazione, i genitori e i bambini che sono stati bravissimi perché io personalmente sono andata un paio di volte a vederli. Quindi vi dico bravissimi. Sì! 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 Un applauso a questi figli. 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 It's a questi figli. Un applauso a questi figli. Un applauso a questi figli. Un applauso a questi figli.